Buongiorno, sono Massimo Polidoro, sono uno scrittore, un giornalista, sono un segretario del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, un'associazione che è nata più di 30 anni fa per iniziativa di Piero Angela, Margherita Actu, Lio Regge, Umberto Veronesi, Carlo Rubbia, Rita Levi-Montalcini, Umberto Eco e tantissimi altri nomi della scienza e della cultura per contrastare la diffusione di bufale, pseudoscienza e per favorire la diffusione invece del pensiero critico e di una mentalità scientifica. Oggi sono qui a presentarvi il mio ultimo libro, Il Mondo Sottosopra, che è per l'appunto una fotografia del momento storico che stiamo attraversando e che si rivela essere molto attuale in questo particolare frangente, nella situazione legata al coronavirus che stiamo vivendo, perché perché le bufale, le fake news, le fandonie insomma sono qualcosa che effettivamente ci accompagna da sempre ma che diventano dilaganti si può dire in momenti di crisi, in momenti di passaggio in cui la società attraversa delle trasformazioni e lo vediamo tutti i giorni con la quarantena insomma del coronavirus, ogni giorno nascono e si diffondono in una maniera istantanea bufale di ogni tipo relative al coronavirus. C'è chi dice che sarebbe stato creato in un laboratorio cinese come un'arma biologica, poi però ecco che arriva immediatamente dopo un'altra teoria del complotto, quella secondo cui sarebbe invece stato creato dagli americani per colpire i cinesi, quindi due versioni completamente contrastanti che però rappresentano esattamente una caratteristica base e che troviamo sempre nelle teorie del complotto ed è una delle cose che affronto nel mio libro Il Mondo Sottosopra, cioè quella di capire come mai nascono le teorie del complotto, come mai si diffondono e come mai noi siamo così attratti da tutte queste idee pseudoscientifiche e spesso completamente sbagliate. Beh, adesso naturalmente il libro sono quali 500 pagine ma non parlo solo di quello, affronto tantissimi aspetti del mondo delle bufale, ma in particolare quello che interessa a me che ho una formazione di psicologo, io ho insegnato psicologia dell'insolito all'Università di Milano Bicocca per diversi anni, metodo scientifico e mi interessa perché tante volte tutto quello che c'è sotto questa diffusione dell'irrazionalità non è tanto una colpa degli strumenti, a volte si sente dire colpa del web se circolano così tante fake news, no, non è colpa del web, il prezioso ma può anche essere usato per diffondere stupidaggini, scemenze, falsità. E allora qual è il motivo insomma per cui noi siamo spesso attratti o spesso non riusciamo a capire che qualcosa non è vero? Semplicemente è il modo in cui funziona la nostra mente, capire come siamo fatti, come il nostro cervello funziona, come ragioniamo di fronte a nuove informazioni è importantissimo se vogliamo capire perché certe idee hanno una presa così forte, idee che si rivelano del tutto infondate, no, pensate a quelli che rifiutano i vaccini, pensate a quelli che credono alle scie chimiche che sarebbero le scie di condensa degli aeroplani, quelli che sostengono che non siamo mai andati sulla luna e così via, insomma, ce ne sono davvero tanti per arrivare agli estremi, quelli della terra piatta, quelli che pensano che siamo governati da un popolo nascosto di extraterrestri rettiliani. Le fantasie complottiste e irrazionali veramente non hanno limite. A volte possono fare sorridere, ma altre volte invece hanno delle conseguenze drammatiche anche sulla vita delle persone. Pensate appunto ai cosiddetti Novax che rifiutando le evidenze scientifiche che dimostrano come i vaccini siano fondamentali per proteggerci da tante malattie e oggi credo che con il coronavirus forse sarà difficile per queste persone fare proseliti. E beh, mettono a rischio la vita di tantissime persone, in particolare dei bambini. Non vaccinando i loro bambini mettono a rischio non solo loro, ma anche i loro compagni di scuola che magari vengono infettati dal virus che potrebbe colpire il bambino non vaccinato. Ed è solo un esempio, ma ce ne sono davvero tantissime scelte politiche prese sulla base di teorie complottiste. Ce ne sono davvero tante e hanno avuto conseguenze drammatiche. Pensiamo a quello che è successo durante il nazismo, naturalmente. Insomma, gli esempi sono tanti. Una teoria che attraversa tutto il libro è che non nascono oggi le bufale. Ci accompagnano da sempre, ci accompagnano dall'antichità, dalla storia, dai primi esempi di storia registrata e hanno, come dire, accompagnato tutta la vita dell'uomo. Questo non significa che non esistano complotti, non esistano cospirazioni. Caspita se ce ne sono stati. Pensate al Watergate, pensate all'Irangate, pensate alle fantomatiche armi di distruzione di massa di Saddam Hussein che non esistevano. Erano una prova fabbricata dagli Stati Uniti per poter attaccare e entrare in guerra con l'Iraq. Ce ne sono tanti, tantissimi di esempi di complotti organizzati, ma la differenza qual è? Che molto spesso i veri complotti poi vengono scoperti, vengono smascherati, perché è impossibile tenere un segreto troppo a lungo, tanto più se ci sono più persone coinvolti. Invece le teorie del complotto immaginarie, quelle dei cosiddetti indagatori di complotti da tastiera, gente che passa le giornate davanti al computer senza sapere assolutamente come si fa un'inchiesta o come valutare le prove o come ricercare le evidenze scientifiche, quelli sono complotti che durano decenni, vent'è, cinquant'anni. Da cinquant'anni c'è gente che crede che non siamo andati sulla Luna nonostante la quantità di prove scientifiche che ci sono, non solo a sostegno delle missioni Apollo che ci sono state, ma tutto quello che c'è ancora oggi sulla Luna, tutta la documentazione registrata all'epoca non solo dalla NASA, che appunto molti considerano, molti di questi complottisti considerano venduta o addirittura la spectre un po' tipo nei film di James Bond che organizzava tutti i complotti mondiali, la spectre, l'organizzazione malvagia. Non ci sono solo loro, ci sono naturalmente tutti gli osservatori del pianeta che hanno osservato le missioni Apollo arrivare sulla Luna, documentare le passeggiate degli uomini sul nostro satellite, eppure le persone continuano a negare i fatti, così come oggi ci sono quelli che negano addirittura l'esistenza del coronavirus, quelli che negano che il pianeta si sta riscaldando per colpa delle iniziative dell'uomo, negano le evidenze scientifiche. Ecco, questa è la caratteristica di questo momento storico, c'è una sottovalutazione dell'importanza dei dati scientifici da parte di molti, perché acquisendo informazioni attraverso il web si illudono di poter avere accesso a tutta la conoscenza possibile, oppure a quella che loro ritengono essere nascosta, conoscenza proibita, così la chiamano. Ma non avendo strumenti critici, non avendo capacità di individuare e di capire, e non avendo competenze scientifiche, prendono più delle volte lucciole per lanterne. E, ripeto, questo è davvero il pericolo che stiamo attraversando. Io nel mondo sotto sopra, quindi, faccio una fotografia di tutta questa situazione, cerco di capire le motivazioni, cerco anche di dare qualche suggerimento pratico su come contrastare le bufale, come essere noi stessi in qualche modo più attenti per individuare quelle che potrebbero essere delle festerie e non farci prendere per il naso. In chiusura del libro poi ho voluto dedicare quasi un centinaio di pagi, 150 pagine, adesso più o meno non mi ricordo, però a una delle più grandi teorie della cospirazione, la madre di tutte le teorie di cospirazione si potrebbe dire, cioè l'assassinio del presidente Kennedy, perché dal 1963 a oggi sono nate decine e decine di teorie alternative all'assassinio del presidente Kennedy. L'inchiesta, l'indagine che ha concluso che Kennedy è stato assassinato da Lee Harvey Oswald è contestata da tutti coloro che invece immaginano complotti che coinvolgono tutte le grandi potenze occulte, coinvolgono la CIA, l'FBI, Cuba, il KGB, la mafia, lo stesso vicepresidente Lyndon Johnson e così via, chi più ne ha più ne metta. Su questo argomento sto anche realizzando una serie sul mio canale YouTube, una serie dedicata al caso Kennedy, ma ho dedicato anche tantissimi altri video, se andate lo potete vedere, proprio ai vari complotti, alle varie teorie della cospirazione, alle varie credenze irrazionali che sono diffusissime appunto dalla Terra Piatta a Inovax, a qualunque cosa vi venga in mente probabilmente un video l'ho già dedicato. Andate sul mio canale YouTube, cercate semplicemente il mio nome Massimo Polidoro e lo trovate e vedete come tanti degli argomenti che tratto nel libro io cerco anche di affrontarli in una maniera anche diversa dal punto di vista del racconto e dell'approfondimento nei miei video. Questo vi volevo dire, questo vi volevo raccontare e come sempre, di fronte ad affermazioni straordinarie, io ricordo che è importante mantenere una mente aperta perché si possono sempre fare nuove scoperte, si può sempre trovare qualcosa di nascosto, qualcosa che viene trascurato. Quindi non si tratta di rifiutare a priori ciò che viene presentato o eventuali spiegazioni alternative. Servono però le prove, servono però delle evidenze, non si può credere a qualcosa semplicemente sulla base del fatto che l'ha detto quel tizio che ho sentito una volta su Facebook, ecco questo non basta. Dunque come dicevo va bene avere la mente aperta in questi casi ma non così aperta che il cervello caschi per terra. Grazie a tutti!